Ciao ragazzi, ciao ragazzi, buonasera, stanco morto Purtroppo non sto lavorando e sto studiando un po' di lingue perché non si sa mai con i tempi che corrono Volevo parlarvi del nostro presidente del consiglio Oddio, penso che molti di voi avranno seguito la conferenza di stasera Ma non è tanto della conferenza che voglio parlare Io voglio parlare di quest'uomo, questo è un uomo solo ragazzi, questo è solo Io ho come l'impressione che sia stato mandato allo sbaraglio E che viene sostenuto dai 5 stelle per umanità No, per umanità sembra brutto Per rispetto della persona Perché neanche i 5 stelle, quelli più intelligenti, pensano Non abbiano capito granché da quello che ha detto Conte stasera E dagli altri viene sostenuto perché devono fare interessi delle loro consorterie europee, italiane Sapete no? Io a qualche giorno che vedo un uomo solo Un uomo solo Specialmente dopo quella giornata e mezza di gloria Che si era conquistato Sparando a zero su Salvini e su Lameloni Poi tornerò anche su loro due Ecco Ricordate la storia Non è stato firmato nessun mese Falso Io sto studiando un po' di tedesco Perché sto bagliando anche delle opportunità lavorative in quell'ambito là Sto studiando un po' di tedesco Mi è capitato di curiosare sulla Frankfurter Allgemeine C'è un articolo in cui Oltre a far menzione del no categorico A qualsiasi tipo di euro bond, corona bond Portato a casa dalla Merkel Si parla anche del caso italiano Più che altro del caso italiano Come lui Si è vero Lui era scettico Riteneva inadeguato Lui forse ritiene inadeguato il MES Lui lo ritiene inadeguato Ma ha dovuto cedere Ha dovuto cedere Perché è un uomo solo Vistosi messo in mezzo Lui è un uomo solo Perché questo articolo parla di tre punti Sostegno alle linee di credito Per lavoratori precari Per piccole e medie imprese E Occhi aperti Occhi aperti Paesi indebitati Italian oder Spanien C'è l'articolo sulla Frankfurter Allgemeine Chi mastica Volendo si può anche fare la traduzione in italiano Non è proprio perfetta Ma qualcosa si capisce Frankfurter Allgemeine Andate sulla sezione politica Ausland Che significa estero E lì compare l'articolo Sul no della Merkel Sulle perplessità di Conte E tante altre cose Questo per dirvi Quale minchiate ci raccontano La stampa italiana Io non ce l'ho con Conte Conte aveva molta più dignità Paradossalmente Quando era al governo con Salvini Non che fosse una cima Come politico D'altronde non lo era Lui adesso Da quando ha fatto il governo con questi Va per citazioni Si atteggia Ad Aldo Moro Questo suo modo di fare Questo suo richiamo alla cultura Un nuovo umanesimo Ricordate Questo suo modo di fare gentile Questo suo appellarsi Al rispetto delle istituzioni Ma amico mio Se tu solo conoscessi La storia di Aldo Moro Anzi dubito che tu non la conosca Ma oggi Aldo Moro Oggi Aldo Moro Passerebbe per sovranista Se studiate bene la sua storia E comunque Tornando a Conte Questo è un uomo mandato allo sbaraglio Ma Si uno può ascoltare le parole Questo tono mellifluo che lui usa Ma Signori miei Il linguaggio del corpo Il linguaggio del corpo Non mente mai Non so se ricordate Appena Finito Il vertice europeo Abbiamo fatto questo 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 Buonasera a tutti Tipico atteggiamento Di chi Vuol sgattaiolarsela Presidente Tu sei il mio quasi conterraneo Non ci fai una bella figura Caro presidente Io lo so che tu sei in buona fede Io avverso totalmente il tuo governo Ma io so che tu sei in buona fede Io non sono del tipo che bisogna attaccarti per forza Si qualche battutina Qualcosa Ma il rispetto non deve mai mancare Ok E Oggi hai parlato di questa fase 2 Abbiamo parlato con queste Abbiamo parlato con questi altri Questo ci fa capire come tu Tu E non solo tu E anche il movimento 5 stelle Siete completamente in balia del mostro burocratico Clientelare italiano per eccellenza Che fa capo al PD Date retta ai sindacati Date retta alla burocrazia Date retta all'Europa Il PD Uguale Con il doppio dei parlamentari Caro presidente Salvini è criticabile finché vuoi Ma Salvini Non era arrivato a tanto Eppure Salvini all'1% in meno Ha preso del PD Alle scorse elezioni L'1% in meno E il tuo atteggiamento Il tuo del movimento 5 stelle E diametralmente opposto Nonostante abbiate il doppio Dei parlamentari Che maggioranza è questa? Veramente E' una pena Vedere Paola Taverna Arrampicarsi sugli specchi Vedere Tony Nellie Arrampicarsi sugli specchi Quella Iena poi già russa Non ne parliamo Quello è PIF 2.0 Lasciamo stare A volte Le Iene tira fuori certi personaggi Vabbè lasciamo stare Cosa avresti dovuto fare In Europa? Amico mio Quando tu hai detto Facciamo da soli Io ero con te Io veramente ero con te Caro presidente Ma C'è qualcosa Se entra Come diceva Falcone Giovanni Falcone Sei entrato in un gioco Troppo grande Io rispetto per Giuseppe Conte Ma ribadisco Entrato in un gioco Troppo grande Troppo grande E' vero Il momento E' quello che E' il MES Caro Conte Tu l'hai firmato Hai firmato Il potenziale uso Ma il MES Sarà usato Sarà usato Gioco Forza E oggi Prendo un passo Che sarà sfuggito a morti Dalla tua conferenza stampa Faremo Le riforme Che da tanto Tempo Attendiamo L'hai detto quasi all'inizio Della conferenza stampa Questo E Amico mio Questa è la cosa Che veramente deve farci tremare Più di tutto il resto Quel faremo Quello che Non ha Che da anni Aspettiamo Cosa vuoi intendere Le famose Riforme Che ci chiede l'Europa Tu tra le righe Ci hai fatto capire Che il MES L'hai firmato Caro Tu fra le righe Questo ci hai fatto capire Allora Sapete cosa succederà Ci sarà L'abolizione Del contante Via quota 100 È un grosso Ridimensionamento Del reddito Di cittadinanza Giusto per non scontentare Completamente I grillini Oltre al chiaro Aumento Di tasse Del resto Quando Il direttore Di agenzia Delle entrate Mi dice Che sono pronti 8 milioni e mezzo Di accertamenti Non penso Parli a vuoto Sono per caso Queste le riforme Epocali Delle quali parlavi A inizio conferenza Stampa Perché a molti È sfuggito Questo passo A me no A me no Caro Giuseppe Conte Sono molte Le categorie Che sono avvelenate Io non penso Che alla fine Succederà nulla Perché noi Sì L'Italia Non è la Grecia Come dal punto di vista Economico Ma Lo è perfettamente Dal punto di vista Culturale Non siamo capaci Di ribellarci Altrimenti Ci sarebbero già I forconi in piazza Guarda Noi Siamo un popolo Pacifico Ma nell'accezione Negativa Del termine Che accettiamo Tutto Pur di non Sporcarci le mani Pur di non Combattere Noi accettiamo Tutto Del resto Noi siamo il popolo Dell'8 settembre Noi siamo il popolo Del 24 maggio Noi siamo il popolo Noi siamo il popolo Del Viva Viva Stalin Viva Mao Viva Chi Com'è che si chiamava Quello Mao Zedong Viva Mao Zedong Noi siamo sempre Esterofili Ma per cultura Per cultura Per cultura Di sottomissione Trasmessa Per secoli Dei nostri avi Ecco perché Non sono Non sono ottimista Per niente Caro Conte Tu sei una persona Dignitosa È un altro passo Della tua conferenza Stampa Ve la potete prendere Col governo Ve la potete prendere Tu già sai che la gente Ti sta dicendo Un mucchio di parolacce Già sai Tu veramente Ti stai immolando In nome di chi In nome di cosa Ti stai immolando Caro Conte Ti stai atteggiando Eroi di una cosa Che non vuoi Ti stai atteggiando Ad eroi di una causa Che non vuoi E allora Perché non Tirare un sussulto Di dignità Perché Tu e il movimento 5 stelle Non un sussulto Di dignità Ma andate a cagare Il PD Siete ancora in tempo Fate maggioranza Con Non dico il governo Giallo verde Fate maggioranza Fate quel che c'è da fare Con chi ci sta E poi torniamo a votare Quando tutto sto casino Sarà finito Torniamo a votare E vinca il migliore Se vuoi salvare Quel residuo di dignità Tanto Tanto L'hanno fatto con Di Pietro Lo faranno anche con te Ti usano E ti gettano Di quelle parti Caro Conte Tira fuori Un po' di dignità Fa vedere Perché tu non sei Una malvagia persona Tu sei una persona Che ha anche delle qualità Ma ti stanno mandando Allo sbaraglio Si prenderanno i meriti E a te lasceranno Icetemurt E tu capisci Cosa significa Essendo pugliese Come me Raga Iscrivetevi al canale Spero di tornare a parlare Al più presto possibile Di cose migliori Buonanotte